Ad Alcamo entra in vigore la Tares, la nuova tassa su rifiuti, stangata per le famiglie, previsti aumenti medi del 40% rispetto allo scorso anno, tutelate le attività commerciali e artigianali, rincari record per frutti e vendoli, farmacie, bar, edicole e tabacchini. Movida Alcamese è ancora polemica e il movimento ABC contesta al sindaco di non avere seguito le indicazioni della commissione consigliare competente del servizio di prevenzione per le tossicodipendenze per contrastare il fenomeno del consumo di alcol. Verso la realizzazione della rete fognare di Scopelli, un nuovo passo in avanti del comune, affidato l'appalto per l'indagine geologica, passaggio propedeutico al progetto per rendere cantierabile l'opera pubblica da 5 milioni di euro. Commercianti non in regola si abbatte alla scura del comune di Partinico, batoste per supermercati, negozi di abbigliamento e rivendite auto, applicate maxi multe. Il famoso biologo Francesco Petretti dalla nota trasmissione RAI, Gheo & Gheo, all'Istituto Tecnico di Alcamo, al centro dell'incontro, la necessità di avere maggiore sensibilità e rispetto verso il territorio per una migliore qualità della vita. Bene ritrovati con l'informazione di Alpa 1, una nuova edizione, anche per quest'oggi apriamo con la cronaca da Trapani. Un immigrato suomalo di 33 anni, Jimal Ali, con regolare permesso di soggiorno per motivi umanitari, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'uomo con precedenti per vari reati, dal danneggiamento aggravato alla molestia, dal vilipendio alla Nazione Italiana, all'interruzione di pubblici servizi nonché specifici e reiterati per oltraggio a pubblico ufficiale, si era posto davanti l'ingresso del principale palazzo del Governo, cercando di impedire proprio l'ingresso a persone e a mezzi, senza fornire motivazioni al suo gesto di protesta. Più volte è invitata ad allontanarsi dal servizio di vigilanza, prima si è sdraiato per terra e quando un'auto ha cercato di oltrepassare alla soglia del corpo di guardia, l'extracomunitario ha sferrato un pugno al volto della gente, procurandogli una contusione con una prognosi di 20 giorni. Adesso invece parliamo di Alcao, come avete sentito dai titoli, entra in vigore la Tares, la nuova tassa sui rifiuti stangata per le famiglie, previsti aumenti medi del 40% rispetto allo scorso anno, tutelate le attività commerciali ed artigianali, rincari record invece per frutti vendoli, farmacie, bar, edicole e tabacchini. Sarà stangata sulle famiglie, molto meno per le attività commerciali. Ad Alcao il muto ingresso della Tares, la nuova tassa sui rifiuti, ha un sapore agrodolce. Il Consiglio Comunale ha varato le tariffe che per le famiglie incideranno con un aumento medio del 40%. Una famiglia tipo composta da 4 persone che abita in un appartamento di 100 metri quadrati quest'anno pagherà 285 euro, un solo componente invece pagherà 160 euro, con 2 si sale a 224, così via via, sino a 6 o più componenti che dovranno sborsare 311 euro. Per ciò che concerne invece le attività imprenditoriali, commerciali, produttive e altre tipologie, la storia cambia. Amministrazione e Consiglio Comunale hanno voluto maggiormente salvaguardare queste categorie. Tanto è vero che negozi di abbigliamento, calzature, ferramenta e cartoleria pagheranno il 10% in meno rispetto allo scorso anno, addirittura il 20% per rivenditori di tappeti, tende e tessuti. Per attività industriali, capannoni, alberghi e ristoranti la tasse rimane invariata, contrazione del 17% per le aree artigianali. Per tutte le altre tipologie invece si riscontrano aumenti che oscillano tra il 2% e il 92%. Il picco più altro lo dovranno assorbire negozi di frutta e verdura, stangate anche per le farmacie, edicole e tabaccherie, più 54%, bar più 69%, uffici più 48% e banche più 33%. Abbiamo cercato di salvaguardare al massimo le categorie produttive, sottolinea l'assessore all'economia di Alcamo Gianluca Binanti, considerato il grave momento di crisi. Comunque voglio sottolineare che, nonostante questi rincari dovuti per legge, considerato l'ingresso della Tarus, ad Alcamo la tariffa sui rifiuti rimane tra le più basse della Sicilia. Per chi subirà i maggiori rincari, una piccola consolazione può essere l'allungamento dei termini di scadenza dell'imposta. Il Consiglio Comunale ha deciso di posticipare alla prima rata al 16 dicembre, la seconda al 28 febbraio e la terza al 31 marzo. Inoltre è ricomparsa l'idea dell'utilizzo della scheda per i conferimenti dei rifiuti differenziati nelle isole ecologiche e nei centri comunali di raccolta, idea introdotta dalla precedente giunta scala, ma che non entrò mai in funzione. L'impegno è che il prossimo anno, ha precisato il vicesindaco Gino Paglino, si attivino le schede attraverso cui chi conferisce avrà pesato il rifiuto e usufruirà di un sconto. Gli aumenti sono stati determinati in base a quanto prescrive la normativa che impone per la Tares la copertura del 100% dei costi. Quindi su cittadini, imprese e commercianti è ricaduta per intero la somma dei quasi 8 milioni di costi sostenuti. Niente da fare invece per la richiesta dell'opposizione di tornare al regime Tarsu, così come poteva prevedere la legge. L'applicazione della Tares è, a mio parere, irrazionale. Perché noi andremo ad applicare un tributo che ha validità fino al 31 dicembre 2013, anche perché dal 1 gennaio entrerà in vigore un'altra tassa che avrà un nome ancora, non è stato a quanto pare deciso. Rimanere in Tarsu significava tornare indietro rispetto a un processo sociale di evoluzione. No, 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 non è un mese. Perché già noi abbiamo fatto un percorso, abbiamo approvato un regolamento dove già sono previste alcuni casi di istituzione della parte variabile. E come vedremo, la parte fissa delle domestiche, rispetto all'1,58 al metro quadrato, si pagherà 1,10 al metro quadrato. Quindi significa che diminuirà il costo al metro quadrato rispetto alla Tarso Vecchia. Sorpresi con le mani nel sacco, tre marsalesi già conosciuti alle forze di polizia con precedenti specifici per reati contro il patrimonio. I tre stavano caricando su una pecardia le lamire di zinco che avevano asportato da un capannone quando sono arrivati i carabinieri. Scattate le manette per furto aggravato in concorso, dopo la convalida dell'arresto, sono stati sottoposti all'obbligo di presentazione tutti i giorni presso le stazioni di San Filippo e Petrosino. Movida alcamese è ancora polemica. Il Movimento ABC contesta al sindaco di non avere seguito le indicazioni della Commissione Consigliere Competente e del Servizio di Prevenzione per le Tossicodipendenze per contrastare il fenomeno del consumo di alcol. Vediamo i particolari. Hola Messina, Presidente di ABC ad Alcamo. Dunque, l'ultima polemica con un momento è stata la questione della Movida. La Commissione Consigliere, a quanto pare, voi avete detto, ha dato le indicazioni, anche una lettera di failaggio, il direttore del SERT, e sembra che il sindaco non li abbia atteso l'amministrazione. E poi è successo qualcosa, insomma, com'è finita? Sì, il sindaco, a quanto pare, purtroppo, ha perso l'ennesima buona occasione per confrontarsi e dialogare con la città. Non si capisce come mai, quando c'è da dare delle risposte, il sindaco Bonventre prende e se ne va. Come in questo caso, siamo davvero arrammaricati che sia arrivato nelle case un messaggio di questo tipo di politica. Questo il 19 novembre scorso è successo, no? Questo sì, appena, appena tre giorni. Ma in pratica cosa dice la Commissione Consigliere? Quale direttive ha dato? Allora, a luglio scorso la Commissione Consigliere, e il nostro Mauro Ruisi l'ha detto, l'ha fatto presente in quell'occasione, aveva suggerito delle modifiche al regolamento comunale proprio che facessero fronte a questo nuovo flusso di utenti in centro. Quindi regolare il rumore, quindi la diffusione sonora e così anche gli alcolici. Gli alcolici è un grandissimo problema. Noi abbiamo chiesto al sindaco come mai non avesse preso in considerazione la lettera che il dottor Guido Fellaci del CERT aveva mandato a lui, a numerosi enti, lanciando l'allarme alcolismo ad Alcamo che è cresciuto in maniera esponenziale. Parliamo dei nostri ragazzi che già dall'età di 12 anni consumano alcol. E lui da medico, perdonami, lui da medico, quale si vanta continuamente di essere, lui non l'ha presa in considerazione. E poi cosa risponde l'assessore Melodia? Che a loro non è arrivato nessuna lamentela o comunque noi stiamo ingigantendo il problema. Senti, io le faccio questa domanda. Da parte dei locali c'è però una, in maniera generica, c'è un'opposizione. Cioè, i ragazzi essenzialmente, sì, succedono delle cose durante la movida, ci sono i vicini peraltro residenti che si lamentano, no? Una questione di igiene anche. Però essenzialmente i ragazzi nei locali sono controllati nel loro bere, in un certo senso. Mentre poi ci sono acquisti, per esempio, in supermercati e in altre cose vanno a fare le cose attrove. La politica di una buona amministrazione dovrebbe occuparsi anche di questo. Quando noi abbiamo chiesto, e fortunatamente ottenuto a quasi pieni voti, di avere un presidio di vigili urbani lì, in centro, è proprio per questo, perché se io un ragazzo lo controllo, io che sono addetto alla pubblica sicurezza, giro per le strade e vedo come lo vedo io, perché anche io sono residente in centro, i ragazzi che sono seduti sui gradini, con le bottiglie di vino, da due litri sui gradini, e io chiedo... C'è un problema anche dei genitori. C'è un problema dei genitori. Si è spento ieri pomeriggio nella sua casa di riposo di Corso Vittorio Emanuele a Trapani, l'ex sindaco del capoluogo trapanese Saverio Catani. Aveva 78 anni. Aveva rivestito la carica di primo cittadino nel capoluogo dal 1968 al 1972. Esponente storico della democrazia cristiana è rappresentato una pietra miliare nella politica e nella cultura cittadina. Verso la realizzazione della rete fognaria di Scopello, un nuovo passo in avanti del Comune ha affidato l'appalto per l'indagine geologica, passaggio propedeutico al progetto per rendere cantierabile l'opera pubblica da 5 milioni di euro. Nuovo step di avvicinamento verso la realizzazione della rete fognaria di Scopello, borgata marinara, grande attrazione turistica di Castellammara del Golfo. Il Comune ha giudicato in via definitiva la gara per l'affidamento delle indagini e proveggio agnostiche, geotecniche e di laboratorio propedeutiche alla progettazione preliminare dei lavori di realizzazione del sistema di smaltimento dei reflui. Ad essere incaricata una ditta di Mazzara del Vallo a cui spetta quindi questo compito, che è lo snodo essenziale per arrivare alla progettazione e quindi all'appalto dei lavori veri e propri. Si tratta di un ulteriore passo avanti dopo quello fatto nelle scorse settimane dal Comune di Castellammare di stanziare, come da procedura richiesta dalla Regione per l'utilizzo dei 5 milioni di euro di fondi cipe da utilizzare, i circa 230 mila euro come quota di cofinanziamento. Fondi che serviranno per pagare i compensi di attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, in carico di collaborazione esterna per la redazione del progetto preliminare, attività di supporto al responsabile unico del procedimento, attività di verifica finalizzata alla validazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e attività di studio geologico e acquisizione di indagini geognostiche e geotecniche. Il progetto è stato inserito nell'APQ sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente della Regione siciliana e finanziato con delibera cipe nel 2012. Per utilizzare però questi fondi si deve procedere alla realizzazione per l'appunto del progetto definitivo da rendere immediatamente cantierabile. Questa procedura avanzata dal Comune è stata espressamente richiesta con circolare dell'Assessorato regionale dell'Energia, Dipartimento regionale delle Acque, Reflue e dei Rifiuti che ha dato mandato al Comune Castellammarese di avviare le procedure per l'affidamento dei servizi di ingegneria necessaria la cantierabilità per l'appunto degli interventi al fine di poter incassare i fondi cipe entro la fine dell'anno. Ci stiamo muovendo in questo modo, sostiene la Giunta Municipale, al fine di consentire l'accredito di tali somme dall'Assessorato regionale il quale ci ha chiesto di trasmettere apposita delibera di impegno dell'amministrazione comunale. Il progetto è arrivato a compimento, a livello preliminare, con la passata amministrazione guidata dal Sindaco Marzio Bresciani. L'obiettivo ovviamente è quello di dotare la caratteristica borgata di Scopello di una rete fognante che al momento non c'è. Tutti i proprietari delle abitazioni infatti sono dotati di fosse IMOF, impensabile questo sistema ancora nel terzo millennio e per di più in una zona altamente turistica come quella per l'appunto della vasta area costiera Castellammarese. Iniziativa che si inserisce nell'ambito di un piano complessivo avviato da tempo dal Comune e che comprende anche la realizzazione di un depuratore, anche questo finanziato dal CIP per un totale di 18 milioni di euro, impianto di cui è sprovvisto ancora oggi il Paese in quanto il depuratore esistente non è mai entrato in funzione a causa di un'errata progettazione. E' stato presentato ed è già operativo il nuovo sito della Ryanair, ci sono diverse novità, queste sono le principali, la rimozione del recapcia per le prenotazioni individuali, un periodo di grazia di 24 ore per correggere piccoli errori nelle prenotazioni, una homepage più pulita e più semplice, questa però sarà una novità che scatterà a partire dal 30 novembre, un percorso di prenotazione semplificato che accorcia la prenotazione da 17 a 5 clic, anche questa entrerà in vigore dal 30 novembre e ancora dal 30 novembre un'altra novità sarà un flusso di prenotazione intuitivo che aiuta i clienti a trovare facilmente le tariffe più basse su ogni rotta. Commercianti non in regola, si abbatte la scura del comune di Partinico, batoste per supermercati, negozi di abbigliamento e rivendite auto applicate, maxi multe. Maxi stangata alle attività commerciali di Partinico, oltre a 21 mila euro complessivamente le sanzioni amministrative elevate nei confronti di 5 esercenti per alcune irregolarità rilevate tra il 2009 e il 2010, che oggi si trasformano in vere e proprie ingiunzioni al pagamento. Nel mirino sono finiti due rivenditori di auto, un negozio di abbigliamento, un supermercato ed una polleria. In tutti i casi sono state riscontrate delle irregolarità legate alla vendita o alle aperture straordinarie non autorizzate. In quasi tutti i casi le sanzioni sono state raddoppiate in quanto, in questo tempo trascorso dall'elevazione del verbale, l'esercente non ha effettuato il pagamento in forma ridotta entro i tempi richiesti. La multa più salata è stata combinata ad un'attività di vendita di carni rossa in via Sebastiano Lafranca guidata da GA ed RA rispettivamente di 52 e 58 anni. Per loro la multa contestata da parte dei vigili urbani ammonta ben 10.329,14 euro per aver aperto l'attività senza aver effettuato la necessaria comunicazione all'ufficio commercio del comune. Salatissima la multa anche nei confronti di un supermercato di Piazza Scone di proprietà di DB 44 anni ed RA di 43 anni. Il non avere tenuto abbassata la sala cinesca un mercoledì pomeriggio, cui ero obbligato secondo quanto disposto dall'ordinanza sindacale che regolava le aperture e chiusure degli esercizi commerciali, gli è costata una sanzione di 1.721 euro contestata all'epoca dai caschi bianchi del locale comando. Due, come detto, le concessionarie di vendita auto nuove ed usate che sono finite nella rete dei controlli. Ad avere la page è stata MP 37 anni ed MRG 35 anni, titolare dell'attività ubicata incontrata a Parrini. In questo caso i carabinieri hanno contestato l'esposizione di auto in un terreno di circa 3.000 metri quadrati senza alcuna autorizzazione. I proprietari hanno tra l'altro presentato una memoria difensiva, sostenendo che in realtà quel terreno non era utilizzato per esporre i mezzi. Bensì era un'area momentaneamente occupata dove erano ricoverate le auto pronte per essere trasportate in altra sede commerciale. Il comune però non ha accolto la richiesta di annullamento del verbale ma ha applicato la sanzione al minimo edittale, elevando quindi un verbale di 5.164 euro. L'altra rivendita di auto, finita nel mirino, si trovava in Viale dei Platani. In questo caso nessuna memoria difensiva e il raddoppio della sanzione amministrativa applicata per un totale di 2.680 euro. La trasgressione sarebbe stata nel fatto che il titolare PDP 38 anni utilizzava una sede diversa per la vendita rispetto a quella per cui era stato utilizzato. Infine, nella tagliola delle sanzioni amministrative finisce anche un negozio di abbigliamento di via Mulini, gestito da un cinese di 39 anni. Per lui un verbale di 1.633,52 euro per non avere ottemperato la chiusura obbligatoria del lunedì mattina, secondo quanto contestato dai caschi bianchi. L'assessore alla pubblica istruzione di Mazzara del Vallo, Luciano Azaro, ha annunciato che presto le scuole di competenza comunale, quindi elementari, materne e scuole medie, saranno dotate di una connessione internet a banda larga. Nel XXI secolo non è pensabile che alcuni istituti scolastici della nostra città siano dotati di una connessione internet obsoleta e lenta, ha commentato l'assessore. Adesso invece parliamo di AERGES, la società che gestisce i servizi a terra dell'aeroporto di Birgi. La CGL interviene sul rinnovo del contratto con la Ryanair. Necessario un intervento economico della regione per creare in provincia di Trapani le condizioni per uno sviluppo turistico autonomo, sono le parole del sindacato. Vediamo i particolari nel servizio. Il governo regionale deve intervenire per non lasciare solo il territorio trapanese nel difficile percorso per il rinnovo del contratto con la compagnia erlandese Ryanair. Ad affermarlo il segretario generale della CGL di Trapani, Filippo Cutrona, che interviene sull'aeroporto di Trapani-Birgi chiedendo alla regione in qualità di socio pubblico di sostenere economicamente l'aeroporto Vincenzo Florio, così come hanno chiesto i sindaci del territorio trapanese che attraverso un'azione di co-marketing dovrebbero finanziare l'AirGest per il rinnovo del contratto con Ryanair. La decisione della regione di rilevare il 49% delle azioni AirGest della provincia regionale di Trapani, commenta Cutrona, ha consentito la ricapitalizzazione della società ed evitato che subentrassero i privati, ma in questa delicata fase sarebbe opportuno che il governo regionale sostenesse finanziariamente l'aeroporto di Birgi, alleggerendo così l'intervento economico che è stato richiesto ai comuni. Il segretario della CGL ha inoltre manifestato preoccupazione sulle ricadute in termini occupazionali che si determinerebbero per i lavoratori dell'aeroporto e dell'indotto se dovesse saltare il contratto con Ryanair, esprimendo anche perplessità circa la poca capacità della politica nell'attuare azioni legate all'incremento del turismo. In un territorio poco avvezzo a politiche di sviluppo turistico, ha detto Cutrona, sembra quasi che sia stato demandato soltanto a Ryanair lo sviluppo di un comparto così importante. In questi anni prosegue contando sulla presenza della compagnia irlandese e sulla grande movimentazione turistica che ne è conseguita, sono sorte diverse strutture ricettive che oggi non possono rischiare di vedere condizionata la loro attività alla presenza o meno di Ryanair. Il segretario della CGL sollecita infine le amministrazioni comunali, le istituzioni e gli operatori del settore turistico del territorio ad aprire un confronto finalizzato a elaborare strategie e politiche atte non solo a salvaguardare gli attuali posti di lavoro ma a creare le condizioni per uno sviluppo economico della provincia di Trapani che tragga vantaggi dalle peculiarità del territorio. Il comune di Favignana ha rispettato i tempi di approvazione del bilancio di previsione. Soddisfatto il sindaco Giuseppe Bagoto dopo l'approvazione della manovra finanziaria in giunta, nonostante l'incertezza sui trasferimenti dei fondi sia nazionali che regionali e gli enti locali, siamo riusciti nell'obiettivo a sostenuto in una nota il primo cittadino. Sotto la lente di ingrandimento il centro di identificazione ed espulsione di Trapani Milo, il senatore trapanese Vincenzo Sant'Angelo parla di interessi economici che si nasconderebbero dietro gli appalti di gestione dei servizi del CIE. Aveva già annunciato in seguito alla sua visita al CIE di Milo del 16 novembre scorso insieme ad alcuni attivisti al deputato regionale Valentina Palmeri che avrebbe cercato risposte dai ministeri competenti. Una visita per verificare se vi fossero condizioni di sovraffollamento e parlare con i detenuti, come li definisce Sant'Angelo, e i lavoratori, forze di polizia, esercito e personale della cooperativa che gestisce il servizio. In quell'occasione il senatore aveva denunciato che manca l'acqua calda, le coperte, le lenzuola, i vetri delle finestre e le porte. Aveva anche parlato di un solo medico e di un solo infermiere e di esseri umani, circa 150, che vivono dentro enormi gabbie all'interno delle quali ci sono delle stanze che nel tempo sono state distrutte. Sotto la lente di ingrandimento era finita la cooperativa che fornisce i pasti e i servizi di mediazione culturale e linguistica che a causa a ribasso, dice ancora il senatore, ritarda nel consegnare i pasti che tra l'altro risulterebbero immangiabili. Ora il senatore presenta un'interrogazione ai ministri per l'integrazione e dell'interno ed una richiesta di accesso agli atti al prefetto di Trapani Falco circa le modalità di aggiudicazione della gara alla cooperativa Oasi, in cui chiede di sapere se ritengano che le modalità di aggiudicazione della gara, secondo il criterio del prezzo più basso, si sia rivelata adeguata alla gestione del centro di identificazione ed espulsione di Milo e se intendano verificare se all'interno della struttura vengano rispettati i livelli essenziali a tutela della dignità e del rispetto della persona, nonché le gravi e sistematiche violazioni degli adempimenti da parte della cooperativa Oasi. Il senatore in una nota stampa riferisce di essere venuto a conoscenza che il prefetto, il 5 novembre scorso, durante una conferenza stampa, ha reso sostituire l'Oasi, la cooperativa Glicine e la dimensione Uomo 2000. Quest'ultima gestisce anche il servizio scuola Busa Marsala e secondo fonti giornalistiche mai smentite, dice Sant'Angelo, risulta collegata a Norino Fratello, ex deputato dell'Ars, oggi riabilitato, dopo aver scontato una condanna patteggiata per concorso esterno in associazione mafiosa e turbativa d'asta. Tra l'altro, ricorda il senatore del Movimento 5 Stelle, simili problemi si sono già avuti con la cooperativa Oasi, più volte oggetto di accertamenti giudiziari e il cui presidente, l'avvocato siracusano Emanuele Midolo, è risultato condannato a quattro mesi per falso in atto pubblico. Pare quindi che dietro gli appalti di gestione dei servizi ai CIE, poiché il problema non riguarda solo quello di Milo Trapani, si nascondano interessi economici rilevanti che di fatto impediscono o a voler pensare bene ritardano la risoluzione del problema della detenzione, spesso ingiusta, di uomini dentro queste gabbie. In attesa delle risposte dei ministri e del prefetto di Trapani, Sant'Angelo si augura intanto che quest'ultimo, nell'emore della giudicazione della gara ad una nuova cooperativa, prenda opportuni e urgenti provvedimenti per migliorare le indegne condizioni del centro, annunciando che non si fermerà finché non verrà fatta piena luce sui contorni oscuri di tutta questa complessa problematica. Il Comune di Trapani, capofila del distretto 50, ha trasmesso al Ministero dell'Interno il piano di azione e coesione per servizi a favore di anziani non autosufficienti. I cittadini, quindi anziani non autosufficienti, potranno beneficiare di buoni servizi orario per ottenere l'assistenza domiciliare. Il famoso biologo Francesco Petretti, della nota trasmissione RAI, Gheo e NGheo, all'Istituto Tecnico di Alcamo questa mattina, al centro dell'incontro, la necessità di avere maggiore sensibilità e rispetto verso il territorio per una migliore qualità della vita. Una conferenza con i ragazzi, ormai sono gli unici che ascoltano? Diciamo che sono quelli più importanti, perché è inutile pensare di cambiare tanto la testa dei grandi, quanto invece è importante fare in modo che loro ricevano un messaggio giusto, giusto e importante. I ragazzi, ma anche da quelli piccoli piccoli, io sono appena stato in una scuola elementare, adesso incontro i ragazzi di questo bellissimo istituto qui di Alcamo e sono veramente la grande risorsa del futuro. Senta, la sua conferenza oggi su cosa verterà? Il nostro rapporto con il territorio, perché spesso si pensa che l'uomo possa fare tutto e invece non può fare tutto. Deve fare i conti con degli elementi del territorio che sono sempre quelli e che nella storia l'uomo ha imparato anche a modulare, ad addomesticare ma fino a un certo punto, quindi anche interagire con il territorio e soprattutto pensare che tutto si può fare, purché sia fatto bene e con la testa dietro, con l'intelligenza e con gli strumenti che oggi la tecnologia ci fornisce. Senta, secondo lei gli uomini hanno completamente dimenticato che la natura fa comunque da sé? La natura fa da sé, è una grande presunzione da parte dell'uomo pensare di essere fuori di un sistema che ci comprende e che ci ingloba. Sette miliardi di uomini sono una piccola cosa sulla superficie di una terra che segue sempre i suoi ritmi, i suoi cicli, il ciclo dell'acqua, il ciclo delle sostanze chimiche, il vulcanismo, i terremoti, è tutto qualcosa che va avanti indipendentemente da noi. La scuola continua a fare questi incontri, adesso qua serve a un futuro più sensibile per i ragazzi, più che la preparazione tipica tecnica della scuola. Voi ben sapete la mission di questa scuola che è quella di fare la scuola attraverso la vita perché la vita non può viaggiare su binari paralleli, la scuola deve saper rispondere a quelle che sono le immediatezze del territorio e noi ci siamo sul territorio, ormai penso che il ciclo di conferenze con personalità rappresentative di tutti gli ambienti si concretizza regolarmente, annualmente ci proponiamo per scoprire talenti, ci proponiamo per dare informazione, ci proponiamo soprattutto di sensibilizzare i nostri giovani ad attivare comportamenti consoni. Non si può lasciare abbandonare il certo, quello che è il nostro passato, per costruire un futuro assolutamente indecifrabile alla luce delle nostre conoscenze attuali. Senta ma una domanda al finale gliela posso fare, sinceramente lei è ottimista per il futuro? Io sono ottimista assolutamente e soprattutto quando entro nelle scuole esco fuori che sono ancora più ottimista e lo dico, l'Italia è un paese ricco, forse è il paese più ricco del mondo, lasciamo perdere il petrolio, il gas e noi siamo ricchi del nostro territorio e del nostro paesaggio, quando l'avremo capito tutti, a partire da chi è sopra in alto, allora diventeremo veramente ricchi. Questi ragazzi sono una grande ricchezza, la scuola italiana è una scuola splendida, tutta la scuola italiana e quindi crediamoci tutti. La CNA di Alcamo, attraverso il suo presidente Rosario Scardino, chiede ancora una volta al comune di Alcamo di velocizzare l'approvazione della revisione del piano regolatore generale della città. I comuni dotati di piano regolatore generale, continua ancora Scardino nella nota, sono tenuti alla formazione di un nuovo piano o alla revisione di quello esistente 18 mesi prima della decadenza dei termini di efficacia dei vincoli. La CNA ricorda che ad agosto, nel corso di una riunione con l'assessore all'urbanistica del comune di Alcamo, Ferdinando Trapani, ha esposto le continue difficoltà dello sviluppo imprenditoriale nel territorio alcamese e di avergli successivamente consegnato l'11 novembre un documento ufficiale contenente proprio le proposte per la revisione del piano regolatore. Ad Alcamo prende il via luci sul tema manifestazione per la giornata internazionale per eliminare la violenza contro le donne. Diversi momenti organizzati dal comune alcamese fino al prossimo lunedì 25 novembre. L'Aggiunta Bonventre ha approvato la delibera sulla giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne con la manifestazione luci sul tema. Un fitto programma che avrà inizio sabato 23 novembre alle 18 presso la Sala Rubino del Centro Congressi Marconi con il vernissage della collettiva d'arte contemporanea intitolata No al silenzio a cura dell'associazione Art in Progress. All'inaugurazione della mostra saranno presenti il sindaco, Sebastiano Bonventre, l'assessore alla cultura Elisa Palmeri e gli artisti mentre sono previsti gli interventi sul tema della giornata affrontati dal punto di vista giuridico e sociologico da parte delle dottoresse Chiara Dara e Maria Piera di Liberti e dello storico Roberto Calia. Domenica 24 novembre in Piazza Ciullo sarà allestito lo stand informativo del Centro Antiviolenza ed è previsto un flash mob sul tema. Lunedì 25 presso il Palazzo di Città di Balestrate avverrà la sottoscrizione del protocollo d'intesa per la costituzione di una rete tra i comuni e i servizi del distretto 55 che comprende Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi-Segesta e i distretti 41 e 34 che includono diversi comuni del Palermitano. Saranno presenti oltre ai sindaci dei comuni il commissario straordinario dell'Asp numero 6 Antonino Candela e il commissario straordinario dell'Asp numero 9 Fabrizio De Nicola. L'assessore alle pari opportunità Elisa Palmeri sostiene che il protocollo è funzionale alla costituzione di una rete contro la violenza per la tutela, la cura delle vittime e il contrasto a tutte le forme di violenza di genere. La rete coinvolgerà realtà pubbliche e private che intervengono sui temi afferenti alla salute, la legalità, la sicurezza e la protezione. In particolare la rete svilupperà un piano di intervento contro la violenza nel territorio mediante la costituzione di un tavolo tecnico di coordinamento articolato in conoscenze e monitoraggio del fenomeno, informazione e sensibilizzazione, applicazione delle misure di contrasto alla violenza. Sempre lunedì 25, giornata in cui si celebra in tutto il mondo la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, a partire dalle 17 sarà possibile assistere alla collettiva d'arte contemporanea No al Silenzio presso Piazza Castello ad Alcamo e la fiaccolata Luci sul tema. A seguire alle 18 al teatro Cielo ad Alcamo l'ensemble d'archi in musica e parole in do maggiore e alle 20 la proiezione del cortometraggio vincitore del concorso uno spot contro la violenza a cura dell'associazione Le Pleiadi e infine preziosa Salatino in onora alla madre. Contemporaneamente presso la biblioteca multimediale si terrà la mostra Libro al Femminile. Si svolgerà a Santa Ninfa sabato e domenica nella suggestiva sede del castello di Rampinzeri il quinto congresso regionale di speleologia siciliana promosso dalla Federazione Speleologica Regionale Sicilia ed organizzato dal gruppo speleologico Le Tadarite e da Lega Ambiente Sicilia ente gestore di tre riserve naturali di interesse speleologico con il supporto del comune di Santa Caninfa. Il tema principale del congresso ovviamente sarà la speleologia in Sicilia nelle sue innumerevoli sfaccettature. Questa era l'ultima notizia l'informazione di Alpa1 si chiude qui adesso vi ricordo come di consueto la rubrica click del professore Vincenzo Lucchese che andrà in onda adesso e subito dopo la chiusura la sigla di chiusura del nostro notiziario. A risentirci. Grazie a tutti.